Buongiorno a tutti, sono Vincenzo Molè, produco melanzana violetta su un ettaro di terreno sottoserra nel territorio di Santa Croce Camerino. È da quasi due anni che utilizzo i prodotti Traduco. Inizialmente ho utilizzato il Turbo Root a seguire il Free Green e il Be Morre. Il Be Morre è un prodotto che si usa a bassi dosaggi. Inizialmente non ci credevo, però utilizzandolo dopo due o tre trattamenti ho visto che sulla melanzana mi dà un ingrossamento più veloce e maggior peso. Posso dire che il Be Morre è un prodotto validissimo e si può utilizzare tranquillamente.